Esplode la polemica all'Aquila sui vaccini AstraZeneca somministrati agli psicologi anziché usare Pfizer, come accade nelle altre province. A scrivere una lettera dai toni infuocati all'assessore regionale Nicoletta Veri, sono la dottoressa Cinzia D'Amico, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo, ed Enrico Perilli, responsabile della Commissione Coesione Territoriale dell'Ordine. I due fanno notare che chi per motivi di salute non può fare AstraZeneca viene rimandata a casa. Non entrano nel merito del vaccino, ma si interrogano sulla disparità di trattamento. Ci si chiede per quale motivo i psicologi aquilani non possono accedere al Pfizer, anche dopo che l'EMA ha indicato che è preferibile somministrare AstraZeneca gli OVR-60 e invece si continua, dicono, a somministrarlo a tutti. Quello che abbiamo rilevato e denunciato è la disparità di trattamento, cioè nell'asla aquilana ai colleghi viene somministrato un vaccino diverso da quello che viene somministrato a tutti gli operatori sanitari nel resto della regione. Tant'è che nella nostra ASL, nel modulo che si va a riempire, non viene indicato lo psicologo come professione sanitaria, ma viene indicato come altro. E questo non va bene perché, ripeto, la legge prevede che la psicologia decide, stabilisce che la psicologia è una professione sanitaria. Ma il vero problema, oltre a questo, che comunque è un problema, è che la nostra popolazione, sia come psicologi, ma in generale la popolazione aquilana, in questo momento non è coperta dalle vaccinazioni, lo è meno di altre popolazioni. Questa è la nostra preoccupazione, che insistendo con questa metodologia di vaccinazione ci saranno zone più coperte e altre zone, la nostra, meno coperte. Per l'ordine la situazione va sanata. Sulla questione era intervenuto il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci, chiedendo l'UMI al manager della ASL, Testa. Gli psicologi, dice Perilli, non sono comodi nei loro studi come si pensa nell'immaginario collettivo, ma sono in prima linea, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità, a fianco dei fragili, sempre. Gli psicologi, per la maggior parte, lavorano nelle comunità per tossicodipendenti, lavorano negli ospedali, lavorano nelle case famiglie, lavorano in tutti quei luoghi dove è necessaria la presenza di operatori sanitari e dove ci sono altri operatori sanitari. Quindi, ripeto, la legge stabilisce che lo psicologo è una professione sanitaria perché realmente lo è. Con l'arrivo di ulteriori dosi, intanto, le vaccinazioni dovrebbero tornare al regime. Lunedì prossimo ci saranno le prime alla categoria di persone nella fascia di età 79-70 anni, una platea molto ampia regione. Le manifestazioni di interesse, però, sono state solo 23.000. L'attenzione sui casi rimane altissima. I dati degli ultimi giorni hanno avuto delle oscillazioni importanti. Potrebbero far scongiurare la zona rossa, ma in isolamento rimangono molte persone. La pressione sugli ospedali, soprattutto, rimane alta.